... Vai, vai, vai! Benissimo! Benvenuti a questo evento offenziale, ma non mi ricordo di tutti i club e le magie che si riuniscono in una giornata per festeggiare il lavoro che stiamo facendo da questo tempo, guardate. Vieni, ci siete? I noviziati? Non sono di meno, non mi piace. Non sono di meno. Bene, ragazzi. Allora, siamo arrivati. Vi siete appuntati. Avete risolto i mille problemi. E adesso è il momento di divertirsi. Invece, per quello che riguarda i nostri capi, io ricordo i nostri capi che abbiamo un momento di divertirsi alla loro passione. No, che viene con noi, ragionare. Dai, allora, direi che ne facciamo noi. No, 3, 2. oppure, da 5, 3, 2, 4. Torre, torre qua? Però, regale, dai! E' andata 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.